In questi nove cd nasce da un'idea di raccontare una storia, di raccontare delle storie così un po' particolari attraverso un'ambientazione un po' più adeguata a questo tipo di narrazioni, quindi un'orchestra sinfonica e degli arrangiamenti che comunque vanno un po' oltre quello che è lo schema della canzone, quindi il tornello, strofa, questo è il motivo. Questo per quanto riguarda la parte dell'opera, poi il fatto di riorchestrare dei brani è stata semplicemente la conseguenza di questo inizio, quindi cominciato con la parte più concettuale e poi è arrivato anche l'arrangiamento degli altri brani, quindi rivestiti in questa chiave qua.